La seconda edizione della Festa dell'Eureggio ha preso il via con la sfilata lungo le vie di Pergine e Valsugana, cui hanno partecipato le bande e le compagnie degli Schützen di Trentino, Alto Adige e Tirolo. Un'occasione importante è stato ribadito al Parco dei Tre Castagni in occasione dell'inaugurazione della festa per imparare l'uno dall'altro e guardare con la fiducia al futuro con l'obiettivo di valorizzare le diversità dei popoli che abitano questi territori. Abbiamo tanti bellissimi progetti che andranno avanti e mi riferisco soprattutto alla collaborazione tra i tre atenei dell'Eureggio, ma ovviamente ci saranno anche delle novità. Dobbiamo fare di più per quanto riguarda la gestione del trasporto pubblico locale, ma anche per quanto riguarda il tema del traffico transfrontaliero, merce e lo spostamento dalla gomma alla rotaia. Oltre a questo ci sarà una novità per quanto riguarda la nostra comune radice culturale, però quella la sveleremo quando sarà arrivato il momento. Il presidente Trentino Ugo Rossi ha ribadito che l'Eureggio è un esercizio di lavoro comune tra le istituzioni, le università, gli enti di ricerca, le scuole e le associazioni culturali dei tre territori che lo compongono. Credo che abbiamo accelerato soprattutto su due versanti, la costruzione di una storia comune da una parte e soprattutto il collegare i nostri enti di ricerca valorizzando in maniera molto forte la collaborazione fra gli stessi per offrire ai nostri giovani maggiori opportunità formative. Grande soddisfazione è stata infine espressa dal sindaco di Pergine per l'onore di aprire la seconda edizione della festa dell'Eureggio concesso al comune Val Suganotto. Allora Pergine nel sistema Eureggio può offrire molto già a noi, da 40 anni abbiamo un gemellaggio con una cittadina austriaca, Amstetten, e abbiamo potuto coltivare in tutti questi 40 anni molte cose in comune, da quelle che sono le attività culturali, le attività sportive, le attività musicali e uno scambio culturale veramente importante. Pergine nel sistema Eureggio